Musica Musica A buona matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Cishokamero89 in questa fantastica coppia del nostro Il mitico Trommo64 dei Gamer Brothers, ciao ragazzi ed eccoci nella quinta coppia, ben ritrovati sulla quinta coppia di Portal 2 Dopo le intuizioni geniali del sottoscritto nel episodio precedente che ha guidato e monopolizzato il video praticamente Esatto, ha avuto le intuizioni da genio Magari questa volta Cishokamero si rifarà Ma 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 anche no, ma anche no Siamo qui sul continuo, allora vediamo cosa possiamo fare, qui c'è un ponte Se io crea un portale qui e ne creo un altro qui, posso attivare questo Ah si, ci ho capito Allora, se qui questa, no, no, no Tu devi crearmi uno qua, uno qui Bravo e uno lì, bravissimo così Se adesso faccio così, yay Ok E adesso E adesso No Mi sa, mi sa, mi sa Che deve passarsi solo uno da qua Perché attraverso questi dopo ognuno perde il proprio portale Solo uno di noi deve passare da qui Ah ho capito Tu mi lanci, tu devi creare i punti Tu devi crearmi i punti Sì Dove? Ah, devi crearmi i punti Allora Ah aspetta, allora questo Questo va qua Quello va là Eh, se tu mi crei quello lì in basso Però non vado molto Ah sì sì sì, giusto, giusto, giusto È giusto, è giusto Rimettilo qua Bravo, adesso Io vado qui su E praticamente E praticamente E praticamente E praticamente E praticamente Sì sì, voi ci sono Praticamente ti faccio Ah no, niente Così? Sì, ho capito Cosa? Ho capito tutto Adesso Torna giù Eh, no, no, no Cioè, no, torna lì Aia Eh, mi devi creare un Mi devi creare i punti Tu mi devi solo creare i punti Scusa E crea un ponte giù Là? Sì Entra da uscita Transollo Eh, vai Eh, tu Il giallo Vai Ok Adesso io farò Così Poi Mi butto qua Eh, che portale ho usato Il viola Così Sì, così E però Sbattato Sì, esatto Ora Ora Io ne creo Un altro qua E tu Mi devi spostare Di ponte in ponte Fino che io arrivi laggiù Ah, quindi ora ti faccio Un'altra entrata lì Eh, aspetta però Torna No, tu torna Torna giù a terra Perché sennò cade giù E mi muori Ok Tu torna giù a terra Adesso tu mi vai Un'entrata qua Guarda Bravissimo Vai, vai Ok E poi un'altra entrata qua E un'altra lì Bravissimo E io adesso sono giù L'ho usato il viola Qui userò il blu E adesso Bam Io ci sono Eh, ok E io no Adesso devo solo Dovevo solo capire Come fare arrivare te Lì Allora Se io Me ne è arrivato Qua Aspetta Io non devo fare Le stesse Facciamo le stesse Identiche cose Guarda Penso che sia molto facile Facciamo così A me è giusto È così Cioè proprio le stesse Sparatili Poi Giusto Poi tu Mi fai fare il ponte Mi fai il ponte Qua Hai già creato il portale Sì Però No, dietro di te Devi createlo lì Perfetto Adesso io ti faccio il ponte Il portale ce l'hai Sì Ed è quello giallo Vai, vai, vai Tranquillo Creati il rosso Adesso lì Do il trampolino Il rosso E vola Eccomi qua Perfetto Ora Io No No E Bam Adesso lì ti sei creato il rosso Tu vai, vai, vai Vai, vai Sì, è così È così Fermo lì Torni dietro Torni dietro Ok, è da lì che dovrai uscire Esatto Facciamo così Vai Devi creati il giallo Il giallo Sparati E Olè E ci siamo E ci siamo E questo è fatto Congratulation cacchio Congratulation 22 minuti Congratulation No, vabbè Taglieremo un casino Sì 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 Praticamente C'è stato lì a starci su Troppo tempo E un'altra intuizione Geniale dello zio C'è lo zio Che spacca Lo zio sta spaccando Su questo giallo Ok, facciamo un altro livello E poi chiudiamo Mamma mia C'ho i neuroni Che si stanno bruciando Uno ad uno Sono arato C'ho gli neuroni arati E' un'altra intuizione Ok 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 Non hanno attunto buoni risultati Principalmente perché le raga Non fanno onestere E' fine del lavoro di gruppo Allora Sbam Così a random Così Serve a una beata minchia Anzi sì Ok Ci sono dei laser Ci sono dei laser Saltiamo No Ma non ti fanno nulla Sì Ah non ti fanno nulla E' vero Lol Eh però C'è un cazzo Ah bravo ciccio Però 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 Abbiamo capito Abbiamo capito Abbiamo capito Che quelle ti proteggono Ok Allora Se noi rifacciamo così E così E passiamo di qua Noi siamo protetti dai laser Esatto Come tu toglierai il laser Moriremo Quindi Ah ho capito Tu da là Torna indietro Tu da là Mi devi Sostituire il portale E attivarlo subito Dall'altra parte Vai Ok Ma Tu però Se vai lì muori Quindi non andarci No Oddio Ok Calma Adesso Sono io Che devo Aiutare te In un qualche modo Allora Aspetta Se io Ciccio Stiamo calmi No Così Oddio Mi sparano Allora Se io faccio Adesso così E questo lo metto là Io ripasso Non mi fanno una Bada minchia No D'accordo D'accordo E come hai fatto Passato No Grazie Non volevo Ho capito Ho capito Comunque Ci ho capito Allora Creamene Ok Ricrea il tuo portale Ricrea pure tutto Quello che Oddio Ok 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 Allora Tappa quelle torrette Di minchia Cosa fa Non lo so Si chiude dentro Mi sono Tappami con le torrette Tappamene Bravo così Adesso Se io Ne creo uno Qua E me ne crei uno Qua a me E te ne creo uno Dove Qua su un muro Così io esco Si Si Mamma mia Signori Attenzione Attenzione Eccolo il ciccio Aspetta ciccio Aspetta ciccio Che volevo fare qualcosa Eccolo Non so Sto facendo qualcosa No Non volevo fare questo No vinto Si Yey man Attento ciccio Vedo altri laser Lì in fondo E la cosa non mi piace Ciccio sono doppi Come sono doppi Si E dobbiamo Dobbiamo sfruttare i portali Di prima Ok Quindi se io Sparo uno qua E uno lì Abbiamo Eh aspetta Però così non Non Aspetta Eh qua ciccio Qua Guarda qua Sparalo qui Così Mamma mia Dei pro Mamma mia Corri 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 Perfetto Perfetto Incredibile 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 Altri laser Va bene Ah ecco Allora Qui si sta Questo Che buttiamo Qua Ok Oh Sparano Allora Allora calma 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 fratelli Sparano Calma fratelli Vabbè frega Oddio Oddio Aspetta Via No Siamo tornati al punto di partenza Allora Devo capire cosa dobbiamo fare a sto punto Aspetta eh Se io faccio un'entrata lì E ci piazzo Un'uscita là Così ci copriamo Però non so quanto Così ci copriamo ma Eeeh Dobbiamo andare avanti noi Dobbiamo arrivare là avanti Quindi se Aspetta Ah ho capito ciccio Sparala qua E devi sfruttare Oh Devi sfruttare il mio ponte Aspetta Come avevi fatto prima A sfruttare il mio ponte Eccolo Eccolo Ah quello là Perfetto Adesso Ah devo premere il pulsante Non ci arrivo Ciccio Sì Cos'è quello Ciccio devi Devi togliere la protezione E dopo rimetterla Devi togliere la protezione E rimetterla Sì 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 Quindi togli il rosso e rimetti Aspetta ma dove Allora Spara il rosso dove vuoi Dove ti pare Poi dopo lo rimetti però Vai Devo attivare il pulsante Vai Sì ci sono Ciccio Ciccio attivano Ciccio attivano Ciccio attivano Aspetta il tuo Aspetta eh Vai Ok Allora io Sparando qualcosa Qualcosa Aspetta Io faccio il giallo Devo togliere il giallo Sei pronto? Tu devi togliere il giallo Ci sono Vai Via 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 Ok Gira di gira di prima che casca Guarda c'è l'allà Dov'è? Oh l'ho preso Non so come Esatto Ho girato Ho girato a random Perfetto Oh eccolo Aspetta ti tolgo il coso Devi tolgerlo Dei pro E andiamo così E andiamo così Assolutamente dei pro E direi di concludere qua Questa volta sono riuscito Anche io A fare qualche cosa Un applauso Ciccio Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Veramente Grazie a tutti Beh allora direi di Chiudere qui il video Da Trombone È davvero tutto Mi sono divertito Se il video vi piaciuto Mi mettete un bel pollicione in su E ci vediamo alla prossima Un saluto neanche da Vostro Ciccio Gamer Ciao Ciao Ciao